Buongiorno a tutti, mi trovo alla fiera di Batibò a Bruxelles e sono davanti allo stand di Rifra. Sicuramente la prima grande novità di Rifra è questo nuovo concetto di stand, non più aperto ma un luogo raccolto in cui il cliente viene accolto e accompagnato all'interno del nostro stand per fargli vivere a pieno il vero lifestyle di Rifra. Ma entrate con me! La prima ambientazione è caratterizzata dal modello K-Cube. Il modello K-Cube è la massima espressione del design e della linearità che contraddistingue Rifra. Il top assottigliato, l'assenza della maniglia e il taglio a 45 gradi dell'anta. Chiudendolo l'effetto è proprio quello di un cubo, da qui il nome K-Cube. La finitura scelta è la finitura a metallo bronzo liscio. Interessante è la proposta dell'interno. Interni che, nonostante l'assenza di maniglia e quindi l'obbligo di avere un'altezza di 30 cm, sono veramente capienti, grazie all'idea di nascondere le guide e quindi di aumentare la capienza. Gli interni sono proposti nella finitura a venghe. Il top è un top in Corian con lavabo VB11 a scarico continuo. La rubinetteria è il nostro modello Forti in acciaio inox satinato. Sempre in acciaio, la nostra collezione Clean per gli accessori in Corian e acciaio inox satinato. Qui proponiamo il nostro pensile con doppia anta specchio e retroilluminazione LED, illuminazione LED interna. Il nome del pensile è AID. Nella finitura a laccato opaca proponiamo le nostre colonne in e out. Cambiando ambientazione troviamo, viene riproposto il modello K-Cube ma nella finitura a laccato bianco lucida. Con interni, laccati bianchi opachi e la stessa capienza. Nel primo modello abbiamo visto i separatori sempre in venghe, mentre qui vediamo proprio il cassetto nudo, quindi dalla massima capienza. Il top, anche qui abbiamo un top in Corian ma con un nuovo lavello. Il BB21. Notiamo qui i riproporsi di una caratteristica di rifra, ovvero quella di nascondere le zone tecniche. Infatti non vediamo la piletta ma vi è un pianetto che la nasconde e che rende tutto più pulito, più lineare. La rubinetteria è la rubinetteria modello Wave in acciaio inox lucido. A completare l'ambientazione il nostro specchio modello Edge con cornice in Corian. Tante le novità di questo Batibou 2018, tra cui il restyling dei nostri sanitari, sia modello thin che bold. Qui vediamo il modello thin, ovvero più squadrato e la novità è la tavoletta più assottigliata. Che conferisce più leggerezza al design. Dietro di me il piatto doccia in line con scarico fessura. E grande novità è il soffione doccia in acciaio inox lucido. Questo soffione ha la possibilità della cromoterapia e della doccia cascata. Oltre alla doccia proponiamo anche la vasca Ness in mineral solid. Con rubinetteria ovviamente Wave che completa l'ambientazione acciaio inox lucido. Sempre immancabili sono le nostre tube che regalano un effetto di completo relax alla sala bagno. Anche essi in acciaio inox. Qui troviamo la nostra vasca Smooth, illuminata dalle lampade Eve, con rubinetteria modello Forti e il nostro pensile inside, laccato opaco e retroilluminato LED. Non poteva non mancare il nostro Masterpiece, il nostro K1 con il suo taglio a 45 gradi, lungo tutto il perimetro dell'anta, interni laccati opachi e guida in acciaio. Il top proposto è il top in laminam calce nero con vasche integrate VB16, è il modello. Rivediamo appunto la stessa finitura anche all'interno della vasca. I rubinetti sono un modello Forti in acciaio inox lucido. Il pensile proposto è il pensile Loom con anta a specchio interno ed esterna. Come dicevo prima, la novità è il restyling dei nostri sanitari. Qui troviamo il modello Bold, più arrotondato, e la stessa caratteristica della tavoletta più assottigliata, che ne leggerisce il design. Mentre qui, diversamente da prima, troviamo la proposta più arrotondata della placchetta. Come abbiamo visto sul mobile K-Cube, la grande novità sono anche le finiture metallo, che qui abbiamo deciso di proporre come rivestimento dei nostri lavabbi freestanding, plint e circle. Rivestimento esterno. La rubinetteria è il modello Wave in acciaio inox satinato. Immancabili le nostre tube in acciaio inox, anch'esse satinato. Qui invece troviamo il nostro K-Fly, che come lo vediamo ora è il frutto di un restyling strutturale. Abbiamo aumentato lo spessore dell'anta, in modo da conferire più robustezza a questo modello, che si contraddistingue per la leggerezza del suo design. Quindi andiamo a conferire robustezza alla leggerezza di questo mobile, data appunto dal taglio a 30 gradi del top e da questa gola, che ne enfatizza ancora di più questa leggerezza. Andiamo subito a notare un'altra grande novità, appunto è questo top in Corian, con il nostro lavabo suave proposto integrato. Il lavabo suave, la sua forma è tra le più apprezzate dal nostro pubblico e abbiamo pensato quindi di proporla nella versione integrata. La rubinetteria è il nostro rubinetto modello Wave in acciaio inox, mentre adesso sposto l'attenzione sulla finitura del nostro K-Fly. Questo è un nuovo legno che fa parte appunto delle novità dei nove nuovi legni proposti da Rifra in occasione di Batibou 2018. Qui abbiamo la finitura Rovere Miele Fiammato. Come vi dicevo, la nuova finitura Rovere Miele Fiammato fa parte delle novità Rifra Batibou 2018. Vediamole insieme. Grazie al supporto di questo pannello appositamente creato per mostrare ai nostri clienti queste nove novità legni. Sono sei roveri che si suddividono in roveri fiammati e roveri anticato. Interessante è la finitura fiammata, ovvero data dalla vena che si allarga e da questo effetto fiammato. Poi abbiamo i roveri anticati e infine le tre essenze che si presentano così in natura, ovvero l'essenza venghe, l'eucalipto e il noce fiammato. Si sentono proprio tutte le venature del legno. Una delle nostre nuove finiture, precisamente il rovere fiammato sbiancato, viene riproposto sulle nostre librerie climbing che ci accolgono nella zona accoglienza appunto in cui è impossibile non notare l'importanza di questo nuovo tavolo rivestito in laminan calacatta oro. Rifra a Batibò 2018 ha deciso anche di presentare la collezione di sedie rivestite in pelle anticato cerato. Bene, e io adesso da quest'ultima zona relax da anch'essa una nuova proposta di Rifra, la sedia lounge, anch'essa rivestita in questa pelle che ricorda il cuoio, ma è una pelle cerata. Vi saluto e vi consiglio di rimanere connessi perché le novità Rifra non finiscono qui. Sarà un ricco 2018. Grazie per l'attenzione. Laura, Rifra TV, Batibò 2018.